Chiara, prima leader under 23 femminile di questo Open de Spagna di Cross Country Coffee Dice 2018, è andata bene? Sì, è stata una gara molto dura, piovuta ed era molto scivolosa, Yolanda è partita subito forte, poi siamo rimaste in quattro a giocarci secondo, terzo e quarto posto e praticamente poi all'ultimo giro sono scivolata, un po' per colpa mia, un po' per colpa di un altro ragazzo, però ho perso la seconda e la terza posizione sono comunque contenta del mio quarto posto di aver preso una maglia da leader delle under 23 Le sensazioni sono buone pensando all'appuntamento di questa prossima settimana a Sudafrica? Sì, sicuramente il mio obiettivo è quello e oggi mi è servito come ritmo gara per preparare al meglio la Coppa del Mondo di settimana prossima In due settimane avremo la prossima, la seconda gara di questo Open de Spagna di Cross Country Coffee Dice a Valladolid, berrai? Questo non lo so ancora perché dopo il Sudafrica dovrò un attimo capire i miei piani avendo già fatto anche la stagione di Ciro Cross se riposare un po' oppure andare avanti con le gare, comunque ci penserò D'accordo, grazie tante per aver venuto e complimenti Grazie a voi e grazie per la bellissima Spagna Grazie, ciao